Vabbè, quando ci sono le gallerie mi vedono, dai, fanno fulo. Ah, ma quindi Mike, se vuoi dire la parola puoi dirla. Ok, dai, lo dico, lo dico. Dillo. Dimi quando siamo in live. Siamo in live. Sì. Hello Boomer! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ritornati sul mio canale Twitch, c'è ormai l'appuntamento del sabato sera in compagnia di Simo e Mike. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Simo non vedete la solita postazione di casa, mentre Mike è in viaggio e che stai tornando da Savona? Sì, 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 ero lavorato da Savona, quindi sto tornando a casa, ma live col cazzo che me la perdo. Eh, infatti, anche perché è importantissimo. Cioè, avevamo fatto quella dei NoFX, ce ne avevamo divertiti molto, poi abbiamo fatto quella dei Chaser, che è idea di Simo che ringrazio tantissimo. Sì, sì, assolutamente. E è andata super bene, allora a questo punto ci abbiamo preso il gusto a fare i sabati insieme, i sabati sera insieme. E quindi eccoci qua. Oggi reaction track by track al nuovo disco degli Offspring, Let the Bad Times Roll. Io non so che belle aspettative, raga. Sì? Ho un'aspettativa altissima. Veramente? Ormai? Giuro, non lo so, perché, boh, mi va così, perché, cioè, generalmente quando la gente non piacciono le robe, a me sì. Quindi, boh. Secondo me è bello. Allora, primo album in nove anni degli Offspring e sinceramente non ci eravamo lasciati benissimo con Days Go By. Non mi era piaciuto assolutamente quel disco. E io ho sentito solo i due singoli che sono usciti e devo dire che mi sono dovuto ricredere subito sulla prima canzone, perché la traccia che poi dà il titolo al disco, Let the Bad Time Roll, Let the Bad Time Roll, non mi piacque per nulla all'inizio, poi dopo, come ha scritto Dan Marcoccia, dopo tre, quattro ascolti non ti esce più dalla testa. È killer quella canzone, ragazzi. Ah, beh, sono gli Offspring, raga, eh. Attenzione, però, il fatto che non esca dalla testa non vuol dire che sia una bella canzone. Non mi dispiace, lo sai? Cioè, è una roba... Io l'ho sentita una volta sola, eh, quindi non lo so. Adesso poi quando la risentiamo ti sopro dire. Comunque voglio specificare nuovamente che, essendo un primo ascolto, questo è soggetto ovviamente ad eventuali cambiamenti nel momento in cui si riascolta il disco. Faccio un esempio. Quella della FX non è che mi era piaciuto poi eccessivamente, ma gli avrei dato forse la sufficienza, se non ricordo male. Ma devo dire che quando mi è arrivato il disco e l'ho ascoltato, sarà che sul vinile hanno un suono assolutamente diverso dal digitale ed effettivamente mi è piaciuto molto di più e l'ho molto, molto, molto rivalutato. Quindi vediamo intanto come va questo primo ascolto degli ospiti. Il bello è proprio questo, fare il primo ascolto e quindi in pressione a caldo. Se no faremo il video recensione, sarebbe tutt'altro mood. Però è bello prendere il disco uscito ieri e ascoltarlo. Prima cosa, io rispetto agli altri due dischi di cui abbiamo fatto la recensione, questo non l'ho comprato. Voi? Sono stato abbastanza preso per il culo da tantissimi perché io ovviamente, nonostante il fatto che l'ultimo degli ospiti che mi è piaciuto è Conspiracy of One, ho deciso di dare fiducia questa volta agli ospiti e l'ho comprato. Ho comprato anche la coppia addirittura firmata a 45 euro e quindi spero che sia bello. Ma anche l'hai preso, signori, un eroe. Io gli offering non li colleziono, però prendo sempre il cd. Oggi lo ascolto. Se mi piace, sì, sicuramente comprerò il cd. Ok. Andiamo a fare un po' di saluti in chat. Abbiamo My Music My Way. Ciao, Simo. Ehi, c'è il grande Fulvio. Grande Fulvio. Ci ha fatto una grande pubblicità. Fulvio, se mi mandi una foto su Messenger dei tuoi pantaloni. Io intanto dico quali ho, ma è molto classico. Ho dei pantaloni della tuta della Diadora, neri con logo nero, quindi proprio niente di trascendentale. Tu, Simo, come sei messo ad outfit? Una classica tuta nera, bragalona, da stare comodi. Come hai lavorato oggi, Mike? Che cosa avevi? Ho praticamente un completo di Diamond, pantaloni corti, arite, nere, rosa, marroncino chiaro. Un po' so long. È bianco e la felpa uguale. Spaccano. Dopo vi mando la moto in privato. Grazie. Ormai è una gang quella... Dall'autogrill. Salutiamo Michael, che tra l'altro lunedì sarà ospite. Ciao Buzzard Blizzard. My Music My Way dice Io prevedo che a Mike piaccia, Simo Passi si disperi dopo tre pezzi. Abbiamo anche i pendolini di mosca, non su questi sono belli dischi, ma sulle vostre reazioni. Secondo me è bello, raga. Poi la copertina è carina. Quindi non può essere un brutto disco. Perché io sono uno che giudica i libri dalla copertina. Adesso qua sto facendo far vedere la copertina. Secondo me quell'immaginario messicano è anche un po' rotto il cazzo. È un pochino tamarra, dai. Però i colori sono carini. Mi piace poi il blu, quindi. Il disco che colore era quello che è autografato? È tipo Blue Galaxy. Deve essere tipo un nero-azzurro mezzo sfumato, se non ricordo male. Penso di aver preso quello. Non sono sicuro perché non ho visto tantissime versioni. Ok. E ricordo per chi si fosse connesso adesso che vedete Mike Nero perché sta guidando comunque tutto in totale sicurezza. Salutiamo la chat e partiamo ad ascoltare il disco. Intanto vedo che siete arrivati in tantissimi. Buona rega. Stasera provo a fare il democristiano. Ciao Matuselemme. Ciao Zizi. Ciao Silvia. Buonasera a tutti. Questa potrebbe essere una sera in cui dopo la live non comprerò nulla. Se esci da una live di Kant e non compri nulla vuol dire che la live è stato un fallimento. Ciao Pring Zero. Buonasera. Comunque no, Fulvio. Ai soliti Levi 501. Sì, ma basta con i Levi. C'è una lezione che ci ha imparato che ci ha insegnato questa quarantena questo periodo perché della vita non abbiamo capito niente comunque ma almeno stare comodi in casa. Ciao Stefano. Michael dice dico solo che ieri è uscito quello dei Krang che forse ci teniamo per sabato prossimo ragazzi. Sì, sì. Va bene. Va bene. E sabato prossimo facciamo i Krang perché doppia live non l'avremmo retta. No. E quindi dai tanto i Krang è un po' come i Caesar un gruppo sì che c'è aspettativa ma facciamo gruppo grosso e gruppo piccolo. La copertina spacca dai Fulvio sei un tamarro. A me piace la copertina a me non piace, a Silvio non piace molto simbolista la copertina è figa la copertina è sembra uno di quei flyer che vedi a Milano per le feste di carnevale dei fighetti. Dove vado io quindi? Non so come siano le feste di carnevale dei fighetti a Milano quindi non so dire. Ma fondamentalmente ti travesti da quel cazzo che ti pare vai in qualche club di dubbio gusto e ti riempi di vodka lemon. Come tutte le feste di carnevale in giro per il mondo e non solo a Milano direi. Vuol dire che non hai mai fatto una festa di carnevale in Sardegna perché se la fai in Sardegna ti tagliano le orecchie. Ciao Farouk un saluto No, comunque ti fanno bene del mirto Ecco Allora, ciao grande penta ricordati quello che ti ho chiesto dopo ne parleremo Allora, Revatomauro ciao grande, scusate stavo guardando la live di NoFX Dai, per registrare noi siamo in live Io ho preso la Signed Frutti in realtà lo Signed perché sta guardando i NoFX Cioè, avevo pensato di mettere tipo telefono e iPad solo che tipo mentre che mi fermano come cazzo glielo spiego guardi sto guardando i NoFX che provano e tipo mi mandano in galera senza passare dal via E farebbero anche bene Comunque qua dicono Allora Fulvio l'abbiamo detto 20 volte perché Mike non si vede sta guidando ed è al buio Fulvio E qui sei qua dall'inizio della live quindi se sei uno che lo dovrebbe sapere sei te Comunque MyMusicMyWay disse Mirto il vermentino di Monti che cos'è? Un vino? Il vermentino di Monti sì, è un un vinello frittantino eh, non è male non è male a me il vino non piace però onore alla terra come il suo viva Ok Dai, partiamo con il primo pezzo This is not Utopia Dimmi Mike Se non se a un certo punto non parlo più perché sono nel parlo delle gallerie e si stacca poi ritorno Non ti preoccupare comprendiamo la situa partiamo con il primo pezzo This is not Utopia Ah ragazzi secondo me è pezzone questo Molto bella molto bella Allora vado io raga Scusa vai 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 Se se sento dire a qualcuno che ascolta i Bad Religion di Norma che questo pezzo è brutto mi incazzo Allora Che sembra un pezzo di The New America Ho visto anche commenti cui copiano male i Bad Religion Ragazzi diciamo che ripetiamo che siamo al primo ascolto però ho letto tutto io ho letto tante recensioni e sapevo che ci sarebbe stata un bel pezzo iniziale ragazzi e questa secondo me è una cazzo di super opener Simo Gran gran bel pezzo mi è piaciuto tantissimo l'unica cosa che non ho capito l'effetto non so se sentivo male io ma l'effetto di Dexter del cantato mi ha reso quasi difficile riconoscerlo poi per il resto devo dire che il pezzo è molto bello se fosse tutto così l'album siamo a festeggiare stasera da quello che dice la chat non credo sia così tutto l'album anche perché vedo che molti che l'hanno sentito a differenza nostra che hanno tutti detto che questo è uno dei pezzi migliori comunque secondo me veramente gran canzone e diciamo che a che punto sono gli offspring su due o tre cose visto che abbiamo sentito il primo pezzo primo album senza Greg K il bassista storico della band che è stato sostituito da Toby Morse che è il fratello di Henry Morse degli H2O il quale gravitava già in Todd Morse Todd Morse scusa Todd Morse scusa ma perché adesso suona il basso lui si suona il basso era come secondo chitarrista quello che stava dietro a Noodles mi pare dal 2009 quindi tantissimi anni praticamente suonava tutto lui si il bassista che faceva legna e adesso lui è il bassista ufficiale e alla batteria invece continua ad esserci Pete Parada che è già stato anche nell'album precedente e ha suonato in band come Face to Face e Save the Day quindi questa è la formazione oggi degli offspring comunque non sapevo assolutamente che non c'era il bassista storico come mai io lo sapevo hanno avuto una lite molto molto grossa per un fatto di royalties e io non so come è andato anche perché si è sempre sentita il parere però cioè tipo cause molto molto grosse su dividendi delle royalties che l'hanno portato a lasciare la band e quindi sono tipo in causa e beh perché sei il bassista degli offspring lascia la band mamma mia non sarà più la stessa band allora era un personaggio molto poco carismatico c'è da dire Greg K buon bassista adesso non eccezionale secondo me dopo anche tu Mike magari se vuoi dire una tua tecnicamente però poco carismatico come bassista ti piaceva? faceva il suo cioè faceva quelle quattro cose che che servivano ma non ha mai non ha mai esagerato quel pochino che bastava anche come il primo batterista se vi ricordate era uno dei più scarsi del panorama bank rock mondiale Ron Welty sì sì Ron Welty esatto dopo hanno avuto Atom Willard che ha fatto l'asticella tantissimo che adesso è negli against me però dai Atom Willard uno dei miei batteristi preferiti ha una pacca che ti tira giù i capelli poi è bello da vedere suonare molto molto scenico ora come formazione è molto bella quella di Ospring perché sia Todd Mors che mi piace molto come chitarrista è una bella formazione è andato un po' una rinfrescata e ci sta allora andiamo a vedere i pareri in chat ascoltati i pancreas non male come inizio ciao raga che fico il finale di sta canzone molto bello il finale mi è piaciuto giusto Mike tutti che ti danno ragione Mike come al solito questo oggettivamente è carino è piaciuto sono un fan di Bad Religion la migliore è un'autotopia quindi ci siamo già sentiti il meglio pare la voce è strana sulla voce ha un approccio da quello che mi è sembrato un po' più stanco Dexter e forse era quello che dicevi Simo no no io lo sentivo proprio come se ci avesse un effetto non lo so non lo riconoscevo quindi è strano perché lui ha anche una voce molto particolare che si riconosce subito all'inizio sono stato un attimino spiazzato ho detto ma sta cantando lui ma però dopo poi va bene sì ci ho fatto un pochino l'orecchio però mi sembrava proprio che usasse un effetto strano ma non lo so comunque pezzo che merita questo dai merita parte meglio di single album anche se la prima cancela di single album col tempo è quella che cresce di più ragazzi secondo me è vero è vero confermo voce strana in effetti bassa come tonalità sembra un altro cantante o lui con poca voce ed è anche un fattore anagrafico è ben sopra i 50 è dexter e quindi non puoi avere la voce che hai a 18 è ok comunque Mike è in disco ogni tanto partono le strobo ci sta eccola qua ecco stiamo ripetendo Arthur che sta guidando quindi al buio Mike vogliamo vedere i pantaloni dopo ce li farà vedere se fa la pausa autogrill ho letto che Holland e Noodles lo stessero fregando da tempo sulle royalties ah bene finalmente mi ricordo di una live mi sono perso qualcosa abbiamo appena fatto il primo pezzo un po' di introduzione MRS Peace 806 è solamente perso il pezzo più bello del disco non lo sappiamo non lo sappiamo comunque Mauro è fedele al canale ascolta per la prima volta con noi e quindi diciamo che ci sta vergine come noi prodotto da Bob Rock quest'album ciao si wow prodotto da Bob Rock confermiamo Bob Rock però ho feeling alterni su Bob Rock voi? io non ho la mia di chi sia è quella che lo vina di Metallica essendo no vabbè Simo essendo lo zio di Andrea io gli porto rispetto allora è arrivato il carissimo Waros ragazzi arrivo ora sono persi i pezzi della Madonna abbiamo ascoltato solo il primo pezzo e quanto pare Waros era il migliore da come dicono chi ha già sentito l'album infatti te lo ripete e buzzard ora andiamo con la traccia che dà il titolo all'album questa la conosciamo già bene ti si fica in testa è Let's Bad Times Secondo me dovevano fare un singolo da passare in radio e questo ragazzi è un cazzo di super è una cazzo di super hit ditemi la vostra a me come hit il pezzo ballabile da radio è pauroso una bomba vai a me sinceramente non è che piace molto piace in alcune parti è un pochino più carino il pezzo di ritornello lo trovo un pochino imbarazzante sinceramente cioè non lo so detto poi che questo caspita di ritornello terrificante ti entra nel cervello anche se non ti piace è un po' come meno male che Silvio c'è cioè anche quando lo ascolti ti sbaglio poi la canti per tutto il giorno e questo è uguale mi ha fatto lo stesso effetto ieri quando hai fatto l'evento che ho dovuto ripostare la storia su Instagram quei dieci secondi di quella canzone l'ho ascoltati tipo dieci volte sono stato tutto il giorno con quel perso nel cervello è una roba impressionante eppure non mi piace quindi immagino che effettivamente sia una hit che alla gente possa anche rimanere in testa è piacere però come dire non è proprio tra i miei pezzi preferiti sicuramente degli offspring ma non lo sarà mai proprio come Steve raga questi suonano questi suonano da oltre 30 anni se decidono che è un pezzo deve essere di quelli trappano che ti entra in testa e non esce più sanno come farlo come farlo e lo fanno e infatti ci riescono ogni volta sì sì molto piace ti piaccia o no te lo canticchi anche quando sei a non fare un cazzo ti rimane in testa e poi comunque ti piace più o meno o magari cerchi di di non farlo piacere ma comunque non se ne va quindi rimane lì cazzo è vero è vero è vero e mi ricordo che feci una reaction assieme a Warhol sull'ascoltai e l'ho schernito sto pezzo adesso ho cambiato totalmente proprio visione diametramente opposta loro dovevano fare un singolo e questo dove lo spari in radio vicino alla canzone di De Martino con la pesce e questo ci sta e cioè è proprio è radioforico ci sta è un gruppo come gli Ospring che torna dopo nove anni deve avere un hit radiofonico e per cui mi piace questo commento di buzzard blizzard ritornello degno di outcast puoi vire verso i fallout boy e qui dicono i bon jovi del punk rock ho visto tantissimi commenti in chat e allora chi ha problemi con gli uh oh ma comunque gli piace e grandi panic a z disco ciao canto ciao mike anche ciao simo e dj netis x ti saluta mike grande ale grandioso che dire sicura meglio sicuramente meglio di days go by e bravi gli off fighters qua dicono per somiglianze appunto ai fu fighter allora pensando ad un live questo pezzo potrebbe essere collocato e messa tanto di sigla preiniziale come la metteresti in un concerto sto pezzo ragazzi secondo terzo terzo secondo o terzo no secondo no terzo o quarto ok simo anzi no scusami terzo o quinto perché al terzo fai una piccola pausa riniti con un altro e poi li li pucili tutti con col singolone simon io con tutte le canzoni belle che c'hanno gli offspring questa qua la metterei fuori direttamente così non rubiamo quei 3-4 minuti magari io la metterei terzo perché si parte con una killer seconda killer e poi come terza canzone del disco nuovo in modo da far vedere ok parti con due pezzi per tenere alto e poi il singolo del disco nuovo secondo me si perterfa perché così in questo modo sfrutta l'onda e dopo poi dopo ti giochi la tua scaletta che comunque gli offspring a scaletta dal vivo non le sbagliano anche perché sanno bene quello che devono suonare loro dal vivo e lo sanno molto bene e poi sono bravi dal vivo nonostante Dexter abbia l'autotune live nonostante noodles suoni la metà dei pezzi però raga è un bel concerto ti diverti poi comunque canti tu di lui perché comunque canta tutti i pezzi con cui sei cresciuto quindi alla fine un concerto degli offspring io lo aspetto lo aspetto pensa che io l'ultimo concerto che ho visto è stato proprio gli offspring allora ma davvero piace a qualcuno sto pezzo a meno che uno non sia marcio all'after show del buy fest ok ci sono tantissimi commenti ok gli who heys quelli appartengono con i bad release appunto bel pezzo se si considera che riescono ad avere una sonorità moderna ma ancora stile offspring questo è un ottimo commento gian mad x è uno stile nuovo ma senza rinnegare appunto gli offspring punky still alive terza che tranquilla riprendono fiato adesso allora però un american pie è perfetto con un pezzo per inquadratura della spiaggia tutti che ballano si il video si scrive da solo ragazzi Fulvio dice che non scrive più perché mai che sei il suo portavoce pezzo troppo commerciale va bene giusto in radio comunque ragazzi Stefano penso sia molto normale che ci siano dei pezzi commerciali in un disco degli offspring questa canzone ce la vendono come un momento di ripresa di fiato behind your walls traccia numero tre di ripresa Ciao Lila, benvenuta. Ciao Lila, benvenuta. Ciao Lila, benvenuta. Ciao Lila, benvenuta. Buongiorno. 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 pezzo offspring cioè non posso dire di ascoltare gli offspring se dico ah no questo pezzo qua non mi piace perché sì ok parte lento però poi si sviluppa nella loro solita nel loro solito stile quindi cioè non capisco chi dice ah no secondo me ripeto è un pezzo super offspring bello ben suonato e poi cioè scusate però non vogliatene però tipo dire nel 2021 agli offspring c'è un pezzo un po' troppo commerciale e raga sono 20 anni che fanno pezzi commerciali e comunque continuano a piacermi perché? perché se da una parte il me cioè il mic di 16 anni, 17 anni snobbava i blink 182 perché no troppo commerciali poi quando mi sono messo ad ascoltarli ho scoperto che mi piacevano parecchio quindi cioè commerciale sì a me frega un cazzo commerciale no o mi piace o non mi piace quindi può essere la cosa più commerciale del mondo però se mi piace è bella lì ok questo pezzo non è piaciuta quella chitarra acustica d'accompagnamento ma questo per gusto personale Simo? all'inizio ho temuto il peggio però no allora se la cosa più difficile da fare per quanto mi riguarda personalmente è cercare di dissociare quello che mi piace degli Ospring da quello che stiamo ascoltando perché evidentemente non ha non ha veramente quasi nulla a che fare secondo me se cancello dalla mia memoria tutto quello che mi piace degli Ospring cioè parliamo dei dischi vecchi fino a Cospiracy of One questo qui è un gran pezzo rock cioè è un gran pezzo rock questo secondo me non punk rock però rock cioè nel senso mi sembra proprio quasi un'altra band penso che andando a valutare gli Ospring adesso nonostante il nostro background bisogna pensare che andiamo a valutare oggi una band rock che ha un passato punk rock e credo sia questa la chiave di lettura Simo quindi da questo punto di vista allora tutto torna certo sì 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 no non è facile perché ripeto io nell'orecchio e nella mente ho sempre in mente i loro pezzi che mi piacciono di più che sono i pezzi vecchi ecco quindi diciamo che sì questo qua mi può piacere o non piacere cioè mi può piacere come no cioè è un pezzo che mi mi trova un po' spiazzato e mi trova quasi ecco indifferente anche se è un buon pezzo rock ma perché mi piace anche un po' di musica rock come mi possono piacere i Foo Fighters come mi possono piacere altri gruppi rock che non fanno correttamente i generi che mi piacciono di più tutto sommato cioè non mi sembra un pezzo brutto da dire oh mamma mia che noioso che brutto ecco quello no e allora avevo letto un commento prima anche questo di Gian Camuno riprendo che ci sono troppe cose tutte insieme alla fine non è carne né pesce però la melodia non dispiace il commento che avevo letto prima è un pezzo fatto dal produttore ecco forse fatto un pelo più semplice questa canzone avrebbe avuto un respiro diverso un po' più diretto un ritornello un po' più suonato e dopo qualcuno mi potrà dire cazzo se te lo facevano punk rock ti sarebbe piaciuto e la mia risposta è yes baby e cioè un pezzo se fatto un po' più veloce con le chitarre un po' più potenti forse mi sarebbe piaciuto comunque Gian concorda con te Simo allora qui abbiamo un commento bello lungo di Lila Mir admin di offspring italian anch'io sono fan degli offspring hardcore la realtà è che sono 15 anni che non mi aspetto più nulla da loro quindi di base non resto delusa da quello che fanno sicuramente si vede che ormai hanno poca voglia forse anche il fatto che sono rimasti solo Noodles e Dexter io ci vedo molto un tentativo di assomigliare a Bud Religion nel primo pezzo magari la direzione è quella secondo me però io penso che dopo sentendo poi quello che hanno fatto ultimamente i Bud Religion le strade siano molto molto diverse ok andiamo avanti Regas Mike tutto a posto sì sì però nulla può essere paragonata a Bud Religion ok concordo andiamo con la track Bud Religion è lì poi tutto il resto Army of One qui ragazzi secondo me siamo davanti a una filler bella e buona non so voi ma dai come prima i commenti non entusiasti questo proprio mi sa proprio da filler non mi piace questo ritornello che si allunga così noioso qua intanto dai commenti Mike vogliono fare dei meme con le facce che fa Simone nelle reazioni e farlo come unità di misura universale cosa ne pensi? è una figata è una figata perché poi c'è il momento che c'è quello che non gli piace proprio ci facciamo delle risate grosse la scala da 1 a Simo questa non mi è piaciuta dopo vedo tanti che hanno infatti ho cantato I Wanna Be Say Dead nell'intro perché è un intro molto ramosso di Kennedy Social Distortion si sentono delle basi le basi che hanno gli offspring punk anni 80 però il pesto secondo me non è per nulla riuscito Simo? io sono d'accordo con qualcuno che ha scritto non mi ricordo chi che aveva un qualcosa di The Kids Aren't All Right e c'era qualcosa che mi ci ha fatto pensare anche a me mentre l'ascoltavo effettivamente è la stessa sì beh certo no non è vero non c'è più il bassista non è vero e allora è finito e neanche la voglia no a me effettivamente questa canzone non è che mi sia piaciuta tantissimo devo dire la verità che mi piaceva di più quella di prima e anche il singolone radiofonico aveva più senso secondo me di questa questa proprio faccio fatica a pensare di cioè non mi verrà secondo me mai voglia di riascoltare un pezzo simile forse no no probabilmente se riascolto questo disco questa canzone fa skip comunque vedo dalla chat che dicono sempre sono d'accordo con Mike sono d'accordo con Simo finalmente è arrivato qualcosa di me che Enrico ha presso la mia maglia tra l'altro dei Red Car Bands band che vi invito ad ascoltare molto molto fighi domanda per Simo domanda per Simo vai vai preferisci quest'ultimo pezzo oppure come cazzo si chiama quella brutta del disco dei NoFX quella? quella brutta del disco dei NoFX dai la numero 4 quella scada sì sì bravo sì sì no guarda cosa preferisci non mi fa scegliere tra due cose brutte vicino a Gambarra il dici sì sì quella lì esatto io preferisco questa fish e lo sai che se arriva da me una roba del genere detta vuol dire che quella va veramente cacca lo immaginavo però non lo so non è che va cagare però è no Yoda sì un po' no Yoda intanto qua il disco di NoFX mi è arrivato lunedì farò una live con Michael Simeon e lui unboxerà un po' di robe dopo lui deve andare via presto e poi dopo rimarrò l'ultimo quarto d'ora da solo ad unboxare allora andiamo a vedere un po' di commenti secondo me stanno scivolando in una zona alternative rock questo basa secondo me da 15 anni altro pubblico di riferimento altro mercato e quindi altre necessità melodiche pur restando matrice offspring se vai a un concerto degli offspring non trovi il pubblico dei concerti punk rock è un pubblico alternative rock è diverso se vai a vedere in NoFX o un altro gruppo punk e gli offspring c'è un pubblico proprio diverso perché gli offspring passando per radio arrivano a più gente e quindi hanno un pubblico di riferimento diverso ma quello è da americana in poi che hanno un pubblico diverso poi americana compreso americana compreso sì sì americana compreso certo del potenziale io Gianna in questo pezzo sinceramente non ce lo vedevo Ramos più Dead Kennedys più Sotter sembrerebbe una roba figa in effetti e qui no è come prendere le influenze e convergerle male credo che ha detto tutto la ragazza del sito offspring in Italia non aspettiamoci il discone ma questo nessuno se lo aspetta però è bello ascoltarlo insieme grande Simo Simo domani voglio la pagina Instagram e le bimbe di Simo questo è abbastanza noioso per l'onestà intellettuale posso dire che pur non piacendomi allo stato attuale sono rimasti coerenti come i blink con schiba che sono stati traumatici non come i blink con schiba che sono stati traumatici sì sì non si sposta troppo dall'immaginario offspring questo infatti assolutamente comunque sì fishing now gun barrel finalmente è arrivato il vinile perfetto mi sa che la pagina sarà i salsicciotti di Simo non le bimbe di Simo ragazzi ho bimbe e salsicciotti non l'importante è che ci sia amore per Simo e pare ce ne sia litri e litri d'amore il magazzino dei wurstel di Simo è una cosa schifosissima wurstel o salsiccia Simo no nessuno dei due guarda non posso mangiare nessuno dei due lo sai canti che io devo stare a dieta rigidissima non posso mangiare nessuno dei due quindi mi spiace la pizza la mangiare solamente senza glutine mi dispiace vabbè comunque pitto dai siamo ancora amici dicono banana per Simo le bimbe di Gilbo banana si banana si no Arthur non ti sei perso niente a parte che pagina è fan di Simo stiamo parlando potrei forse pensare di comprare il disco se non ci fosse scritto The Ospring in copertina questo è un discorso che dopo affronteremo dai andiamo con la traccia numero mi sa 5 Breaking These Bones dai dite prima voi cosa ne pensate io penso che gli Ospring siano veramente un gruppo maestro nel trovare delle melodie che rimangono in mente proprio belle melodie che riescono a rendere un pezzo all'apparenza veramente bruttino come questo un pezzo che non ti dà neanche pastiglio ascoltare la linea vocale poi come al solito è sempre molto bella certo però non mi piace assolutamente quello che hanno fatto con la chitarra in questo pezzo dove sembrava all'inizio effettivamente che anche anche sulla chitarra ci fosse una bella melodia è un bel sound poi ha iniziato a fare dei versi stranissimi nudos che proprio non mi sono piaciuti da metà canzone in poi no no Mike ma allora secondo me è carina è in stile offspring come dicevamo prima niente di assurdo però non è non è malaccio all'inizio abbiamo scrittato su Birmingham sulla batteria e la fine mi sembrava un pochino sullo stile di want you bad però dai bella tutto quello che ho sentito non mi è dispiaciuto quindi dai ci sta ci sta questo è un bel pezzo concordo appunto con Simo che con le linee vocali riescono a tirare su qualsiasi cosa loro e ho capito cosa non mi piace e non per far l'hater di Bob Rock tra l'altro l'ho scoperto durante l'ascolto e non mi piace la produzione un po' troppe cose molto confusionaria e secondo me è molto penalizzante la produzione che è qualcosa di più semplice secondo me avrebbe dato maggior risalto ai pezzi e una produzione molto prodotta che io sono abbastanza per il less is more e qui invece ci sono tante cose che vanno un po' a confondere il tutto sai cosa canta secondo me avendo già un sound molto 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 come dire commerciale quindi fare anche suoni eccessivamente puliti forse li ha un po' preoccupati ecco poi non so è quello che mi posso immaginare d'altro canto poi c'è anche il discorso del produttore che vuole sempre mettere la propria firma sul disco e far capire che comunque ci ha lavorato ecco per non farlo sembrare il solito disco che hanno sempre fatto gli offspring con tutti gli altri produttori molto probabilmente è stato over prodotto leggermente sì va bene andando c'è scritto nei credit e io me lo stavo scordando loro sono geniali per le melodie e la voce per me Dexter è ipnotizzante anche se fa pesti mediocre il discorso di Simo e che non sia talento anche questo anche nel punk è un grande talento mentre Gian Max io dico mi rivedo nel testo depressione da quarantena essendo un primo ascolto non ci possiamo concentrare sui testi visto che qui stiamo pensando un po' più al suono eccetera dopo quello sarà un discorso da recensione che non sta a noi farla quindi lo ripeto per i tanti che ci stanno guardando e sono delle prime impressioni le nostre che stiamo dando opinioni un po' controcorrente siamo che è il produttore Bob Rock allora Jamax stavolta anch'io contro Bob Rock in Rise and Fall Rage The Grace lo ha prestato tanto però è uno dei grandi produttori dei nostri tempi comunque no non era Bob Rock che aveva lavorato con Giovanotti che qualcuno me lo chiedeva prima era Rick Rubin adesso che ritorno Rick Rubin Slayer Beastie Boys e tanti tanti altri allora andiamo avanti con Coming For You che se non sbaglio era il secondo singolo quindi questa l'avevo già sentita no io no sentiamo neanche io allora boh andare a prendere un pezzo di sei anni fa e metterlo in un disco nuovo era infatti la conoscevo me l'ero segnato anche negli appunti che era uscito come singolo sta canzone e l'avevo già sentita boh si deve andare a rispolverare qualcosa di talmente vecchio tra l'altro l'ha fatta anche al Bayfest mi pare questa boh e non non lo so comunque Arthur visto che ti piacciono tanti Giuda sappi che verranno ospiti al canale non possiamo ancora dire la data in una puntata assieme a a Franza e Lorenzo quindi Giuda ci saranno come canzone boh non mi sembrava un singolo da andare a rispolverare con così tanta vemenza questa Simo visto che Mike è sparito Mike è in galleria allora io questo qua nonostante il fatto che fosse vecchia di sei anni non ho mai sentito pensa come sono sul pezzo con gli offspring devo dire che Ritornello mi piace un sacco i suoni non tantissimo la batteria veramente troppo rumorosa in certi parti però mi è piaciuto Ritornello sicuramente è uno di quei pezzi tra virgolette maledetti che anche se non ti piace lo canticchi poi cominci come si è notato a battere le dita o a battere la gamba perché effettivamente ha una ritmica che ti rimane sono i classici pezzi pop pop rock che alla fine ti rimangono in mente è tornato Mike e l'hai sentito la canzone? sì 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 no l'ho sentito tutto ciao raga però non posso guidare con la luce accesa che mi viene una sincope quindi torno nello scurità cosa ne pensi di quel pezzo? ma io non ricordavo di averlo già sentito raga però non è male l'avrò fatto anche il Bayfest confermano infatti mi ricordavo non mi ricordo però carino cioè nel senso non mi è dispiaciuto però dopo andiamo sui camogli secondo voi un pezzo che è riuscito sei anni prima valeva la pena andare a riprendere sto pezzo per metterlo poi nel disco io voglio sapere una cosa io voglio sapere una cosa se questo pezzo è uscito o meno in vinile perché altrimenti ha senso perché un fan che si compra se non è uscito un 7 pollici ed è uscito solo in digitale mi sembra giusto dare l'opportunità un fan che magari è piaciuto di inviterselo sul disco e allora è uscito e allora è uscito non lo so c'è una pagina wikipedia vabbè basta andare su discos ok lo vedi ci guardiamo che cos'è discos? mai sentito dai estemperiamo un attimo qui Fulvio dice che ti sei fatto tre camoglie qual'è il tuo panino d'autogrill Mike? il mio panino d'autogrill è l'Apollo l'Apollo? che c'è il pollo mi immagino rigorosamente senza insalata come gli inglesi questa la capiranno in pochi però sì comunque no a pollo senza insalata allora io mi ricordo di Mike quando andavamo a determinati concerti si faceva l'accoppiata con Red Bull e Cornetto alla Marena esatto Red Bull e non Red Bull Sugar Free e quindi il tutto era una botta di zuccheri quindi si le pupille proprio pam adesso sto ciucciando un Red Bullino ok non eri passato al team Monster? no allora Monster cioè i ragazzi di Monster Italia sono dei miei grandi amici ok quindi gran supporto anche in tutto quello che fanno perché fanno veramente tantissime cose in realtà a me piacciono tutti gli energy drink prima di andare via dallo studio mi hanno dato una Red Bull cosa fai? non la bevi? non scherziamo e non la bevo più comunque ho guardato ho guardato Kant e non è uscito in vinile ok che mi fa presupporre che sia stata inserita anche per questo motivo secondo me perché il singolo successivo poi l'hanno fatto tipo tre anni dopo Down è uscito in vinile e c'è nel disco questo che stiamo ascoltando Down sì Down 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 sì o no Kant? cosa scusa? in questo disco nuovo c'è una canzone che si chiama Down no non credo perfetto allora è molto probabile che è stato inserito perché non è mai stato stampato in vinile invece il singolo successivo tre anni più più tre anni dopo nel 2018 è uscito invece da questo Down è uscito in sette pollici anche hanno fatto quindi una release appropriata e quindi l'hanno probabilmente non inserita per quello allora comunque non era questo questo era stato un singolo ma il singolo è quello che andremo a ascoltare adesso e devo dire una roba ad Arthur che dice che i vostri i negozi moriranno per gli e-store la maggior parte di chi dove si compra su disco che sono negozi veri che soprattutto in questo periodo grazie a Discogs si sono riusciti a sostenere quindi molti negozi hanno una pagina Discogs dove poter vendere in tutto il mondo e dopo ovvio che Discogs ha delle commissioni però io la reputo un aiuto per molti negozi piuttosto che soprattutto in un periodo come quello che abbiamo appena vissuto che stiamo vivendo che stiamo vivendo e il singolo dice che comunque Red Bull più cornetto è maggiore di MDMA ok invece quando si andrà in festival la copiata da Red Bull è Pringles alla paprika dai andiamo con il secondo single che è We Never Have Sex Anymore arancio limone mandarino frango banana pedillo banana ragazzi io vi ringrazio la chat come al solito perché un pezzo atroce come questo l'avete fatto sembrare una festa mi dispiace per Mario che è l'unico che non si è divertito perché non ha potuto leggere la chat ma sono usciti i commenti più fighi di sempre vi vogliamo bene leggimene qualcuno per cortesia della serie si dice We Never Have Sex Anymore grazie a questa canzone non si scopa più mai mai più questa è la scritta Bob Rock questo trollone che sembra Michael Bublé Macos meglio Epiferio no imbarassante e comunque chi vedrà il riapplood su YouTube che se non ci manda lo strike negli offspring cosa probabile non so se questo potrà andare su YouTube siamo a livelli musical della Disney quanto manca alla fine il pezzo se l'abbiamo fatta sentirlo tutto 3,30 minuti sprecati chi diceva era meglio andare a recuperare i pezzi di 15 anni fa invece che quelli di 6 anni fa ah vabbè quello che credo che hanno avuto più sesso con questa canzone quello è boia quanti pezzi mancano pochi avete qualcosa da aggiungere Simo e Mike no no sto bene così questo è peggio di Fish in the Gun Barrel mamma mia ho detto tutto difficile difficile davvero presentarsi con un pezzo del genere e questo che allora se fai swing a posto lo puoi fare tranquillamente però i gruppi che fanno il pezzo swing all'interno dell'album che rottura di coglioni è ti ho po' cioè male male proprio ma poi era fatto male cioè era tutto brutto non c'era una cosa in grazia di Dio cioè poi ok suona bene gli offspring la voce di Dexter però cioè fallo a casa tua un pezzo del genere Cristo cioè no non mi va cazzo dai che cazzo è adesso vedrai che piantano giù due violini e partono tipo boh le cavalcate alla Repsody boh cioè mi aspettavo di tutto questa se la fanno live si aprono un orto frutta della madonna dai adesso c'è In the Hall of the Mountain King che è una strumentale di un minuto sono curioso via sarà il classico internet di un minuto Io vi faccio solo una domanda a voi miei fraterni compari e alla chat e mi rispondete semplicemente con un monosillabo o sì o no, c'era bisogno? No No, ma soprattutto ma perché? E' quello che volevo dire io, ma perché? La brutta copia dell'ispettore Gadget Ma è un troll, cazzo l'intermezzo live tipico della band di teenager metallari, sì è vero Comunque qui è tutto un no, era necessario No ragazzi Qui mi pare che questo disco si sia voluto e mi rifaccio alla bella recensione che ha scritto Pancadeca e comincio a trovarmi parecchio d'accordo perché i singoli ok, poi vai a riprendere un pezzo di sei anni fa oltre questo c'è un altro pezzo strumentale e poi c'è un pezzo di sei anni fa come abbiamo detto e poi c'è una rivisitazione acustica di un pezzo di Insane De Ombre quindi ragazzi alla fine i pezzi erano proprio pochi fondamentalmente questo qui è un album che non meritava neanche di uscire diciamo le cose come stanno hanno fatto quattro canzoni poi erano un po' rimischiati prendendo delle robe totalmente inutili come gli ultimi due pezzi per riuscire a buttare fuori qualcosa ma effettivamente c'erano nove anni che non facevano un disco un po' più di impegno l'ho capito però se non c'hanno tempo loro ma fanno un cazzo da mattina la sera è uscito poco tempo fa mamma cioè oh volano eh mamma poi tra l'altro non ricordo chi è che l'aveva scritto che gli chiederanno poi di fare anche la canzoncina di Natale ma l'hanno fatta proprio questa mattina è uno dei pezzi più brutti che io ho mai sentito nella mia esistenza però che c'è una roba terribile era meglio morire da piccoli che ascoltare quel pezzo boh qui ragazzi veramente dai andiamo con The Opioid Diaries sì sì no 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 Grazie per la visione 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 Devo risentirlo perché Andiamo a vedere Let's go Ciao Eh Brian riguardati la live Grazie per la visione Sono delle belle Grazie per la visione Doppio pedale Doppio pedale? Grazie per la visione 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 meglio il rientro nella parte veloce che non è proprio così di grande impatto ma è giusto un ritorniamo a fare quel pezzo un po' più rapido banalmente ecco però tutto sommato cioè rispetto a quelle due che abbiamo sentito prima per carità ben vengono pezzi così. A chi in chat sta dicendo sarebbe bello un album così gli dico già che sta facendo un discorso che probabilmente non è a tanto senso anche perché non ci può essere un album così è fatto di let's the bedtime roll il singolo di tante sfumature però sono contento che l'abbiano messo questo pezzo molto. Sì sì. Mike? Io raga ho una domanda ho una domanda un po' polemica e voglio sentire cosa ne pensa. Ok. Ok. Allora se in questo disco e non in smash ci fosse stata come out and play avreste l'avreste classificato come un pezzo brutto o un pezzo offspring? Allora capito ragazzi se in questo disco ci fosse stata come out and play come l'avreste considerata perché come out and play era un pezzo che un po' esulava dal sound tipico degli offspring. Non lo so Mike è molta fatica ed è una domanda molto difficili. Te Simo come vedi? È per quello che l'ho fatta. Ci penso un attimo. Te Simo? Ma guarda cazzo veramente difficile poi comunque mettersela cioè pensare a un pezzo del genere scritto nel 2020 buttato dentro questo disco e molto probabilmente ci avrebbe fatto cagare sai molto probabilmente. Io penso che la maggior parte della gente non avrebbe apprezzata quanto invece poi l'apprezzi all'interno di un disco come smash perché di fatto è quell'eccezione che esce un po' dal binario del disco invece qui molto probabilmente sentiresti meno lo stacco. Allora concordo con Rico che per rispondere ci vorrebbe un camogli ed ecco questo io non sono particolarmente un fan di come out and play in quanto in quel disco preferisco self-esteem o what in the world happened to you. È un pezzo che è sempre il risultato un po' ostico. Anche in what in the world puoi fare il paragone anche con what in the world happened to you perché comunque sia è un pezzo diverso da quello che ti aspetti dagli off-pring che però suona lo stesso ed è bello. Io avendo conosciuto gli off-pring con quella canzone what in the world è fatica ora mettere e certo mi immaginavo un gruppo diverso perché con una chitarra in levare così e poi dopo senti tutta la discografia degli off-pring che va tutta da un'altra parte è proprio una finta che neanche Ronaldinho ci riesce a fare. Guardiamo se qualcuno riesce a rispondere. Bella domanda, coi suoni di questo disco sicuramente non avrebbe avuto lo stesso impatto. Molto probabile perché il bello di come out and play è anche l'essere asciutto come produzione. Difficile staccarsi dall'idea di come out and play dopo vent'anni e più. Sono d'accordo con Simo, ci sarebbe piaciuta ma in Smash l'apprezzavi. Come out and play è la canzone grazie alla quale decidi che gli off-pring non mi piacevano. Ragazzi andiamo avanti con un'altra cosa che non ho capito, o meglio Gone Away che è una piano version dell'originale che è presente in The Next in the Ombra del 1997. Chiuderebbe questo? Il miglior disco degli off-pring. No, mi d'accordo con il miglior disco degli off-pring, dai commenti che leggo probabilmente questa è la peggio, vediamo come l'hanno reinterpretata. Già piano mi fa girare le palle. Che palle. Il ragazzo deve sapere che sono un figlio di puttana. Schippo le balla del cinema tengo per i cattivi. Geniale. Ah Gian Camuno, bisogna soffrire, stasera non siamo qua per divertirti ma per soffrire. Io me la canto. E' questa tostiera fatta con la tostiera, dai! Sì. E' questa tostiera fatta il limone. E' questa tostiera fatta con l'accentino per darmi fuoco. E' questa… e i reach to the sky and call out your name And if I could trade, I would And it feels, and it feels like Heaven's so far away And it feels, it feels like The world has grown cold Now that you've gone away Cioè che cazzo vai a riprendere un pezzo di 25 anni prima per tirar fuori sta merda Ma anche no cazzo Almeno ci siamo visti i commenti divertenti della chat Ma che due coglioni E che cazzo Ma raga, a me non è dispiaciuta Ma che cazzo, Mike, senta le mani degli offering Raga, cioè a me non... Cioè, è una canzone che comunque l'ascolti No, è una rottura di cazzo Però vabbè, secondo me è stata messa per... Allora, se non do male Poi, smentitevi nel caso Questa canzone era stata scritta per la moglie di Dexter Che era morta, no? Non lo so Io mi ricordo un qualcosa del genere Quindi magari quest'anno c'è qualche sorta di anniversario brutto E magari l'ha voluta rimettere nel disco Sto facendo un'ipotesi, eh? Non lo so Non andiamo a metterci in campi che non ci sono Io, boh, la trovo stucchevole, noiosa Di un pezzo che tra l'altro era figo, però Così, col piano Ma anche proprio gli arranzamenti Quelle tastiere Dai! Cioè, vuoi che non riescano a fare una ballad meglio di quella roba che abbiamo appena sentito? Dai! Se vuoi fare la ballad? Ok, canto non è d'accordo, ma Sono uno stronzo Però Puoi fare qualcosa di meglio di questo Però, vedi La domanda di prima Si può fare anche adesso Se Gone Away fosse uscita Cioè, fosse uscita oggi Invece che in In Snigh on the Ombre Ti sarebbe piaciuta? Così come ti piace O come ti è piaciuta ai tempi? Difficile Simo? Su questa canzone? Su questa canzone Penso che Sia una canzone Che gli Ospring hanno fatto Molto probabilmente Per cercare di Farla usare In qualche tipo Colonna sonora Di qualche film O telefilm Perché non c'è altra spiegazione E perché Sono le classiche canzoncine Che tu trovi Appunto Nei momenti romantici Dei film Ma che effettivamente Cioè Metterla su un disco Magari anche no Cioè potevano Anzi rifarla In un'altra veste Magari fare un sette pollici Incentrato su un progetto Così Non lo so Sì se devi fare un anniversario Magari fai un sette pollici Dedicato Però Cioè tra l'altro Taglia anche tantissimo Il flow Del disco Che effettivamente Gli ultimi due tre pezzi Cioè Gli ultimi due pezzi Non erano male Ti piazzano questa Subito così Adesso voglio capire Come va avanti Perché Ah rimane una canzone Di un minuto e qualcosa Ah bello Tipo pezzi E veramente Ho letto un commento prima Adesso faccio fatica Ad andarlo a recuperare Però Sono d'accordo Prince Che va bene Come bonus track E Avevano dei pezzi Qua e là Registrati Hanno messo insieme E è venuto Un album Appazzone Perché Messo tutti insieme Il pezzo un po' swing Il pezzo hardcore E il singolo radiofonico E la canzone offspring tipica Cioè Fitta male Tutto insieme Questo è quello che Mi suona Mike Cosa ne pensi? Di tutto insieme? Sì Allora Del disco O del pezzo? Ma Di come Del mappazzone Che ci sia il pezzo al corpo E quello radiofonico Sembra tutto messo un po' insieme Con poca logica Boh Quello sì Quello sì Cioè Non ha un Un filo conduttore Sembra Tra virgolette Un po' come hanno fatto I NoFX Con un single album Quattro pezzi nuovi Quattro pezzi presi dai 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 sette pollici Un po' bruttini Così E Cioè Hanno spizzicato un po' qua E un po' là Perché Cioè Dovevano Volevano fare un disco nuovo O dovevano fare un disco nuovo Cioè Questa è la domanda Ma Secondo me Eh Secondo me Secondo me Adesso Ovviamente fare speculazioni Sul tipo di Di obblighi contrattuali Che possono avere con un'etichetta È difficile da capire Però il fatto già che Comunque sia Abbiano Tra virgolette Mandato via anche il bassista Mi fa anche proprio pensare Che ci sia stata anche proprio una Volontà molto repentina Di dover fare immediatamente qualcosa Anche per Tra virgolette Fare della serie Lo facciamo senza di lui Perché effettivamente Sembra veramente Preso e tirato lì Come le prime cose Che hai trovato Nel frigorifero Cioè Poi è proprio Molto molto Montagne russe Cioè parti con un pezzo Bellissimo Poi c'è il pezzone radiofonico Poi c'hai il pezzo schifoso E ti ammazza Poi riparte con un pezzo carino Poi c'hai due pezzi brutti Che ti uccidono Poi ce ne sono due Che ti fanno riprendere Poi ci piazzano un'altra mazzata qua Cioè non si capisce molto bene Allora ragazzi Siamo all'ultimo pezzo L'Allaby Che tra l'altro durerà poco Un minuto e dodici E quindi un altro interlude A quanto pare E quindi Pensate a un voto globale dell'album Visto che siamo alla fine Lo chiedo a voi Facciamo prima Simo poi Mike Poi lo darò io Intanto i voti dalla chat Del disco intero Mentre ascoltiamo L'ultimo pezzo L'Allaby Che magari risolleva le sorti Chi lo sa E Raide e Nei Crang Li facciamo settimana prossima Quindi Settimana prossima Settimana prossima Si sentiva forte L'esigenza di un pezzo così Devo dire Che cazzo vuol dire? Ma che? Va bene Ok Grazie Arrivederci Perché uscire così? Scusa Boh Ma non muore Il ritornello L'Allaby Boh Ma scusa Ma che pro raga Non lo so Ma quanti pezzi sono In tutto questo album? Undici Dodici 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 Ce ne sono Almeno cinque Che non sono pezzi Praticamente Perché sono uno Strumentale Uno Con lo schifo Col pianoforte L'altro È una Ripresa Da dieci anni prima Cioè Veramente Non stare a fare un disco Cioè io non capisco Come gli abbiano potuto consigliare Di fare un disco del genere Cioè nel senso Ok Devi vendere Hai bisogno di soldi Io penso Penso Che un gruppo come gli Offspring In 25 anni di carriera Visto che Demo in giro Non si trovano Release Non si trovano Cose del genere Fai un disco Di B-side Versioni rare Demo vecchie Canzoni che non hai mai rilasciato Fai molta più bella figura Cioè E incassi ugualmente Una panca di soldi Voto? Sì E fai con magari 4-5 pezzi Che hai fatto Che sei convinto Esatto Cioè Non solo Pezzi vecchi E aggiungi Tipo all'inizio Alla fine Esatto Dei pezzi Che comunque hai fatto Voto direi Che non può Assolutamente Essere sufficiente Secondo me Non tanto Per la qualità Sì Io sono più Sul 5 Perché Sono Troppi pezzi Che Non sono pezzi Da usare In un album Cioè Dai Tutti questi Un minuto così Cioè Alla fine Sono 8 canzoni Di cui 4 Carine Belle 4 brutte 3 3 Che non sono pezzi Effettivamente Effettivamente Siamo veramente A 5 Perché siamo generosi Perché ci sono Quei due pezzi Due o tre pezzi Che ti ricordano un po' Di quando eri Di quando eri giovane Stavi bene Insomma Sì Come i miei colleghi Per quei pezzi Per quei pezzi Che sono belli Quei pezzi Che ci sono all'interno Però Un mappastone Che non può Prenderla a sufficienza E che sicuramente Non andrò a riscoltare E chi è che Disco incomprabile Mi dispiace Per il tuo firmato Da 45 euro Simo No ma sai cosa Tanto guarda Sono convinto Perché tu Sono convinto Che anche volendo Rivenderlo Eventualmente C'è uno zoccolo duro Di fan degli offspring Che secondo me Gli piace Qualsiasi cosa A prescindere Quindi Diciamo che l'ho comprato Anche un po' Sulla fiducia Del fatto che Vabbè dai Se è proprio brutto Lo rivendo In qualche modo I soldi ce li riprendo Speriamo insomma Dai Secondo me Tieni Lo tieni Buo ragazzi Guarda Vedo anche voi Della chat Sì A parte Chi è che ha detto Il sette pieno Gian Madx Che viene Dalla pagina Ospring Italia Dopo Ognuno ha la sua Se no c'è Il 6 di Fulvio Se no Carlo 4 3 5 4 e mezzo 5 Adesso li sto facendo Vedere tutti a video I voti 5 per i due pezzi Vuoti Noi mi sa che La prima volta che abbiamo Lo stesso voto In 3 Lo diamo tutti uguali 5 5 ci sta Siamo in 2 Sì ma anche Mauro Records Ha preso la copia Quindi mi pare Autografata Comunque Fulvio Te lo compra Al disco Se hai bisogno Sì 80 euro E l'ho pagato Più spedizione Più dogana Ci devo ripare le spese Pensa con quei 4 pezzi In un EP Siamo in un EP Da 8 e mezzo Cosa ne pensate? Sono d'accordo Sono da 8 e mezzo A meno da 8 Cioè veramente carini Ragazzi Io dico che ci siamo divertiti Tantissimo Anche se non abbiamo Ascoltato un disco Che sicuramente Io ragazzi Questo non me lo compro E non me lo andrò A riascoltare a breve Ringrazio tantissimo Simo e Mike Per avermi fatto compagnia Stasera Grazie mille rega Siete qua Come sempre Grazie mille a voi Che io sono arrivato A casa adesso Praticamente Quindi Quanto dura Il viaggio Savona-Milano? Una live Con il disco Perfetto Te la facevo più vicina Savona No no Ci sta Comunque Voto Qui ci sono i voti a noi Voto a Mike 9 Voto a Kant 9 Voto a Simo 10 E beh sì Grazie Grazie È la colonna portante Sì Mi raccomando Quando arrivi a casa Mike Mandami il link Così ci guardiamo In FX Che mi sciacca un po' le orecchie Dai Mi pare anche il minimo Lunedì Per chi vi segue su Facebook Farò il programma della settimana Per quanto riguarda noi tre Probabilmente ci vediamo Sabato prossimo Live con il disco Con il disco dei Krang Che è un gruppo hardcore melodico Della Repubblica Ceca Quindi una band che vi consiglio di tenere sott'occhio Comunque ce l'ascolteremo insieme L'album è uscito ieri Grazie a tutti per la compagnia E ai miei compari soprattutto Buona serata Grandissimi Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao